Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Immaginate di donare un tocco di unicità ai vostri capi d'abbigliamento o ai vostri accessori con un unico elemento che racchiuda in sé l'eleganza dell'artigianato, la semplicità della natura e la vivacità del colore. Tessiland ha racchiuso tutte queste caratteristiche in un unico elemento, ovvero i bottoni in cocco. Andiamoli a scoprire insieme. Ecco qui i nostri bottoni in cocco naturale ecologico. Partiamo dal bottone spirale, quindi una stampa a spirale a dimensione di 34 mm con un'altezza di 4 all'incirca. La sua particolare stampa, non solo esteticamente affascinante, evoca proprio un senso di movimento e di dinamicità, richiamando quelli che sono anche i cicli della natura e la perenne evoluzione delle forme. Abbiamo poi il bottone orchidea, un bottone smaltato lucido, perfetto per abbellire e donare un tocco di colore ai più svariati capi di abbigliamento o accessorio. Come rievoca il nome stesso, la stampa rappresenta proprio quelli che sono i dettagli di un petalo, quindi un piccolo bottone ma ricco di dettagli, dove le sfumature di colore passano da quelle più calde a tonalità più scure. La dimensione è di 23 mm all'incirca ed un'altezza di 4. Abbiamo poi il bottone brush, qui una stampa a pennello che crea delle striature sul bottone. La dimensione è di 25 mm per un'altezza di 4. E per concludere il bottone striato, un bottone smaltato lucido che crea un particolare movimento grazie alle striature di colore a contrasto per donare un carattere deciso a tutte le vostre creazioni. La dimensione è di 25 mm all'incirca per un'altezza di 4. Come sappiamo benissimo la moda sta proprio nella ricerca e la cura dei dettagli. Si tratta di piccoli elementi ma che possono rendere unica la vostra creazione. Possono essere utilizzati dalla sartoria alla maglieria, rendere unici degli accessori come sciarpe e cappelli. Pensate al bottone striato o a quello orchidea che con il loro mix di colori potranno davvero donare carattere a tutte le vostre creazioni. Che siano di carattere moderno, che siano di carattere più classico o contemporaneo, questo non importa. Ognuno di loro acquisirà un valore unico. Quindi una particolare attenzione allo stile ma sempre un occhio alla natura. I bottoni cocco naturale rispecchiano infatti tutta quella che è l'attenzione verso la natura, verso l'ambiente e l'ecosostenibilità, senza mai perdere d'occhio lo stile. Un continuo scambio quindi tra tradizione ed innovazione. Pensate magari al bottone spirale utilizzato come chiusura per una borsa o una piccola pochette. Donerà sicuramente un tocco di impatto. Vi resta quindi solo che scegliere la forma, la fantasia, la colorazione, lo stile che più preferite e che meglio si adatta ai vostri progetti e lasciare scorrere la vostra fantasia. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maglia ma anche il nostro gruppo ufficiale Tessiland. La pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità ed approfondimenti. E se non volete perdere assolutamente nessuna news vi ricordo anche del canale Telegram. Al prossimo Tessiland News!